Allora, il perché io sono qua in questo momento è semplicemente perché mi hanno rimosso il video che è stato caricato questo pomeriggio Allora, io ho subito registrato perché ho visto l'accaduto, mi ha avvisato un mio amico, mi ha detto Ah, guarda che non c'è più il video, ho detto, ma strano, mi stai facendo uno scherzo Vado là e veramente il mio video è stato cancellato, sì, quello degli omofobi Allora, io non so chi è stato a segnalare il video perché non si può vedere Ma se lo vedo, giuro che gli dico un attimo, lo prendo un'antima parte, dico, ma io l'avevo creato, ci ho messo del tempo a montarlo e me lo bloccano Ovviamente la decisione ha preso YouTube, questo qua poverino magari ha soltanto segnalato il video Poi YouTube ha guardato e in effetti poteva essere un pochettino critico Però non è che ho detto chissà quante parole in merito che facevano, non lo so, che davano fastidio Io veramente ci sono rimasto malissimo perché ci ho messo circa un'oretta a montare quel video E in quell'oretta è tutto stato tempo sprecato, potevo usarlo per studiare Niente, mi arriva questa email da YouTube dicendomi Ah, ci scusiamo per il disagio, ci dispiace aver cancellato o rimosso il tuo video ma era per il bene della community Io non so che dire, quando c'è gente che magari bestemmia, c'è gente che magari tira le maledizioni a chi sta guardando questo video C'è anche altra gente che fa di peggio e poi vengono a bloccare i miei video Quando in realtà i video dove bestemmiano, dove insultano le persone dirette con cui stanno parlando E chiamate anche videosfogo Quello di oggi era un videosfogo, ma non era pesante Io non dicevo porco ogni due minuti, non dicevo parolaccio ogni due minuti E tantomeno non insultavo chi guardava questo video Io semplicemente ho criticato la persona, ossia i gay e lesbiche Ma non tocchiamo più questo discorso perché vedo che... Lasciamo stare, lasciamo stare questo discorso ragazzi Perché vedo che c'è gente che, non dico nulla perché me lo bloccano di nuovo Ma vuole segnalare un video così Vabbè, io non dico niente Spero non mi segnalino pure questo perché se mi segnalano pure questo Io vado da Youtube e gli dico ma mi scusi Non ho detto nulla di male in questo video Vabbè Fatto ciò, il video... Non verranno pubblicati più video per una settimana Non perché Youtube mi ha bloccato il canale Per carità, sono io che ho deciso perché Devo ritrovare un'altra idea per un altro video Devo ritrovare tempo per fare un altro video Perché come voi sapete gli ASMR sono più veloci da editare Anzi non li edito proprio perché sono molto veloci E invece questi video che io sto facendo ci metto tanto Ora questo video non lo monto Infatti l'ho pubblicato così perché ho detto Basta, è il tempo di far capire alla gente cosa è successo E poi è finito lì Anche solo per far capire perché non c'è più un video Perché manca il video di oggi che doveva essere pubblicato E dopo un mese Sì un mese Dopo una settimana avrei risposto Ai commenti che c'erano sotto a quel video Ma a quanto pare Youtube Ha dato ragione a quello che me l'ha segnalato Vabbè ragazzi Io vi ringrazio di aver visto questo video Vi ringrazio di cuore perché siete qua a vedere questo video E lasciate un like di supporto E niente, vi saluto Ci vediamo nella prossima settimana con un nuovo video Ciao raga Ciao